Carichi di lavoro ormai estenuanti, considerando la carenza di personale, oltre ad aggressioni e altre problematiche, che stanno gravando non solo fisicamente, ma anche moralmente, sugli agenti di polizia penitenziaria. Da Lecce arriva un nuovo grido d'allarme per una situazione che si sta facendo sempre più critica. Facciamo l'impossibile per garantire i diritti dei detenuti, però c'è da dire che il personale è ormai iper stressato e la media del congedo da fruire, guardate bene, si aggira intorno ai 150 giorni. C'è personale che ha ancora il congedo del 2020, 2021, 2022 e 2023, quindi siamo veramente esasperati. Se poi pensiamo che ci sono anche nel reparto 1.200 detenuti circa, dalle informazioni che ci danno, e in mezzo a questi detenuti ci sono oltre 200 detenuti che sono psichiatrici, abbiamo difficoltà nella gestione perché giustamente si scompensano oppure non ci sono le adeguate misure per queste persone e si traducono poi in aggressioni verbali e anche a volte fisici. Cosa spiegate adesso? Qualcuno, il governo, le autorità, il prefetto che è stato investito nell'ultima circostanza, adesso chiederemo un incontro. Servirebbe soprattutto misure straordinarie, ecco perché abbiamo la proposta di far intervenire l'esercito per pattugliare l'esterno del carcere e dare comunque un contributo che potrebbe alleviare in piccole dosi un servizio che oggi facciamo noi.